Una donna di 68 anni è stata vittima di un tragico incidente appregiato frazione di Cava dei Tirreni in provincia di Salerno. Dopo essere stata investita da un camion e successivamente da un'automobile è stata trasportata ad urgenza in ospedale, ma purtroppo è deceduta poco dopo il ricovero. La Polizia Municipale sta indagando sull'accaduto cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente attraverso testimonianze e registrazioni di telecamere di sorveglianza. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni la donna stava attraversando la strada quando è stata colpita dal camion e poi dall'automobile. Il conducente del camion non si è fermato per prestare soccorso allontanandosi rapidamente dalla scena. Pochi istanti dopo un'altra automobile ha investito la donna mentre giaceva a terra. Trasportati in ospedale purtroppo i medici non sono riusciti a salvarla. Il PM ha ordinato l'autopsia e l'utilitaria coinvolta nell'incidente è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.